Contro uno, serie di cose abbastanza particolari che succedono in campo L'Italia adesso ha grossi problemi a livello di palle perse Si butta dentro di Cudis e segna Vediamo la decisione arbitrale, canestro valido Il canestro contro Zacalidis, attaccano un bellissimo da vedere questo Per la Grecia, poi perso totalmente però Diamantidis che sbaglia, rimbalzo d'attacco di Dicudis De Paul con il fallo Io posso capire che uno faccia prendere un rimbalzo di Cudis Voglio dire, se giocasse usando tutto il potenziale ci sarebbe penso superiore Di Cudis va via Galanda, alla grande arriva il fisco arbitrale Vediamo se viene convalidato o meno O Basile, cambierebbero tante cose Il palleggio di Diamantidis si butta dentro, riapre per Di Cudis Grandissima rotazione di Roberto Chiacic che rende il tiro difficile di Cudis Canestro da campione Inattivo in difesa però stavolta non mi sento di dare colpa all'arbitro Secondo fallo per Bulleri di Cudis Dal postalto contro Chiacic Tira in controtempo, segna col fallo del centro azzurro 80% nell'ultimo campionato italiano Basile Solorete Basile Solorete E adesso è più 4 Italia Corre Arissis Attenzione ad Arissis che è un acrobata Ributta fuori per il tiro da 3 di Cudis Che segna pescando un incredibile giolli Molo Notti aveva la possibilità di struire l'arbitro L'arbitro del centro azzurro Di Cudis drugi di Cudis 25-20 Maude Fığını e non è una scelta che si può continuare a fare una scelta e si può continuare a fare la scelta il dicoudi sul riprenditore ha il più possibile e si è venuto a fare la scelta il Fosce il dicoudo si è venuto il dicoudi va a fare il dico 49.50 in ogni parte il dico Grazie a tutti, grazie a tutti.